Come siete stati coinvolti in questo progetto che per noi è stata una vera sorpresa perché spesso i giornalisti e i critici non sanno quello che succede nel cinema italiano? Io ho letto questo copione di Cabindu prima, molto prima che lo realizzasse, lo avevo amato subito, mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto l'aria che c'era nel testo, dei personaggi, i riferimenti, l'adattamento, l'idea di farlo in un'epoca come quella che poi è stata scelta intorno agli anni 30-40, quindi io ho aspettato poi che Cabindu riuscisse a realizzarlo perché un film del genere purtroppo nel nostro paese trova mille difficoltà sia per essere prodotto che per uscire, un po' un guaio. Poi però insomma l'abbiamo fatto, è stato un bellissimo periodo, siamo stati fieri di averci partecipato. Beh io l'ho letto praticamente in contemporanea con Sergio, ne parliamo pure all'epoca dicendo ma è bellissimo facciamo questo film, poi purtroppo come dice Sergio nella composizione, diciamo nella partenza di un'ipotesi produttiva in questo paese oramai dove vige oramai quanto ha fatto o no come era, perché questo è il tema drammatico e quindi le cose scivolano via come dice lei ma non se ne sapeva niente e questo ci fa piacere che oggi a distanza di un paio d'anni, due anni, due anni e mezzo il film possa essere visto, questo già è un privilegio forse rispetto alla situazione in cui ci muoviamo noi. A me la cosa che aveva colpito molto era evidentemente questo impianto, l'idea di un carro dei tespi, di una compagnia di quegli anni, di una compagnia che ancora viveva delle regole insomma diciamo ancestrali rispetto al teatro, si confrontasse invece anche con una certa criminalità e che ci fosse tutto questo tema spostato tra teatro e vita. Il mio personaggio è un personaggio che a sua volta è prigioniero, forse è il più prigioniero di tutti e soprattutto ha un ricordo emotivo molto forte, è quel momento in cui con la bacchetta lascio che le persone vengano liberate e questo è motivo di orgoglio come attore ma anche come padre c'è l'idea comunque di poter lasciare che i figli volino anche lontano, ecco questo era il tema e mi piace molto. E questo gioco, voi siete entrambi due straordinari attori teatrali, quindi questo gioco cinema, teatro, letteratura cioè penso che per un attore sia un sogno interpretare un testo del genere, per di più scritto, tradotto da Edoardo come hai approcciato questo dialetto napoletano del 600? Beh io da ragazzino ho visto Edoardo in teatro, mi ci portava mio padre per cui dentro ci ho ritrovato dei sapori che avevano a che fare con la mia infanzia. Il napoletano è una lingua che mi piace, da meridionale riesco anche in qualche modo a recitarlo, a parlarlo è stata una gioia, è vero che sono personaggi che ti affascinano subito poi però abbiamo dovuto trovare insieme, insieme al regista, una misura per togliergli diciamo così anche la teatralità perché stavamo realizzando un film, per togliergli anche la polverosità delle volte del teatro che può portarsi appunto dietro qualcosa che ha a che fare col passato, col ricordo invece il film poi alla fine ha una sua vitalità divertente, ha una sua leggerezza, ha anche una sua necessità io faccio i complimenti a Cabiddu e al produttore che hanno deciso di realizzarlo faccio i complimenti a noi che ci abbiamo creduto spero adesso che il film abbia un piccolo corso, è molto complicato perché ormai è un paese abbastanza in cui il cinema non esiste più, nel senso esistono dei film che escono con 800 copie e si mangiano tutto quindi non c'è proprio più spazio per il cinema però ritengo che poi le cose belle e forti con un'identità abbiano una vita lunga e che invece quelle meno belle, prima o poi anche quelle hanno una vita lunga per cui noi a un certo punto qualcuno si accorgerà che stiamo facendo tanta spazzatura e che delle volte c'è poco spazio per i gioielli Concordo, un'ultimissima battuta com'è stato questo set? concretamente? difficile? divertente? eravate veramente isolati? C'è un'altra memoria invece visiva del film al kimono del Sergio che io ho amato moltissimo perché c'era in tutto questo gioco del costume e della teatralità che invece doveva essere ridotta, doveva essere implosa a favore di un altro racconto io credo che poi alla fine il vero protagonista del film sia la sinara cioè sia intanto il taglio della luce che c'è il film il taglio anche dell'obiettivo, delle lenti ed è un'isola grande, pur se è un'isola piccola grazie